Musica Ben trovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari. L'approvazione del documento preliminare programmatico avvia le procedure per giungere alla definizione del piano urbanistico generale. Qualche problema però nella maggioranza. Il servizio di Serena Russia a seguire la nota del giorno di Michele Cristallo. Intreccio tra rete ecologica e rete della mobilità. Sono i principi ispiratori del documento programmatico preliminare votato ed approvato ieri sera in consiglio comunale e che a distanza di poche ore continua a creare mal di pancia. Il sovradimensionamento del piano Quaroni causa della necessità di una nuova ridefinizione dello sviluppo urbanistico della città attraverso il sistema della perequazione, ossia la sostituzione di aree edificabili, ha convinto davvero poco e pochi. Nella stessa maggioranza la consigliera Maugeri, pur apprezzando lo spirito del lavoro svolto, ha voluto fissare dei limiti allo scambio, affidandosi alla speranza, un vero e proprio atto di fede, nel rispetto futuro di quanto stabilito nel documento. Il cambiamento era necessario, ma non so se stiamo andando nella giusta direzione. Queste le sue parole. È sempre la perequazione alla base del mistero di realtà pugliese dell'uscita dall'aula a pochi minuti dall'inizio della seduta del consigliere Fabio Ladisa che dei criteri di scelta aveva chiesto delucidazioni, concentrandosi in particolare sul blocco edilizio della zona all'Oseto, Ceglie e Carbonara, e avanzando la proposta di un rinvio della votazione. In pratica cacciato dall'aula dal sindaco, il consigliere si è poi allontanato. Se si tratta di triatino peordinato, come hanno suggerito dalla maggioranza, di uno strappo con realtà pugliese, si vedrà. Intanto rivediamoci uno stralcio dell'intervista. Noi provando il DPP oggi, risulta che a est del Parco Adria e a sud-ovest non dovremmo fare nulla, cioè non dobbiamo rendere nulla edificabile. Però richiamando una delibera di giunta che svincola la parte a est, quindi la parte di Parco Adria, noi diciamo, è come se lo facciamo una deroga senza farlo vedere. Quindi sembrerebbe come se volessimo agevolare qualcuno che ha i terreni a est e chi invece sta a sud-ovest dovrebbe starsi zitto e avere un credito edilizio. Ma l'attacco forse più duro è arrivato dal consigliere PDL Costantino Monteleone. Con questa delibera di ieri praticamente continueremo ad avere in questa città a case di 100 metri quadri che costano 600-700 mila euro e quindi non alla portata dei cittadini baresi. E francamente per un'aggiunta di centro-sinistra fra di maneri i prezzi delle case così alte mi sembra proprio un controsenso. Quindi si tutelano, secondo lei, gli interessi sempre dei soliti noti? Certo, si costruisce di meno per far mantenere i prezzi alti perché la cancellazione di 7 milioni di metri cubi edificabili io credo che sia veramente un insulto alla povertà di questa città. L'approvazione del documento preliminare programmatico ha avviato le procedure per giungere alla definizione del piano urbanistico generale. Una procedura complessa che coinvolge oltre alle forze politiche le organizzazioni imprenditoriali, le associazioni di categoria, i cittadini in genere e la previsione più ottimistica parla di tre anni. I partiti dell'opposizione hanno votato contro con una serie di motivazioni che Telebaria approfondisce nella tavola rotonda alla quale partecipano rappresentanti dei costruttori, della maggioranza, dell'opposizione e rappresentanti degli architetti. I punti maggiormente discussi che animeranno certamente il dibattito nei prossimi mesi è il metodo di valutazione per dare corpo alla perequazione che prevede una sorta di scambio di aree e volumetrie, naturalmente, tra proprietari di suoli e amministrazione comunale. Il rischio paventato sin d'ora è una sorta di mercato dei diritti edificatori e quindi con la porta aperta e imbrogli e speculazioni. La seduta consigliare di ieri ha suggerito però qualche riflessione. Il gruppo di realtà pugliese, organico alla maggioranza, ha preso le distanze dal documento, tant'è che il consigliere Ladisa ha chiesto un rinvio della discussione e non essendo stato accontentato per protesta ha abbandonato l'aula. Era assente il capogruppo di realtà pugliesi, era presente a metà l'assessore Annabella De Gennaro, figlia di Vito De Gennaro, dell'omonimo gruppo di costruttori. Un po' sulla soglia dell'aula, un po' dentro, non si è capito granché. E comunque l'episodio non è stato gradito dal sindaco Emiliano, il quale starebbe pensando a revocare la delega alla De Gennaro. Potrebbe in tal modo risolvere, cogliere la palla al bazzo per risolvere ormai il nostro problema all'interno del gruppo del PD e quindi dando finalmente una poltrona in giunta a Emanuele Martinelli. Si tratta di indiscrezioni e quindi il condizionale questa volta è due volte di obbligo. Cambiamo argomento. La soluzione al problema del personale nella sanità si troverebbe nelle norme regionali non applicate. La denuncia è delle opposizioni in consiglio regionale. Silvia Di Pinto. Inutile bussare al governo. Il problema personale nella sanità si risolve applicando le stesse norme regionali. I direttori generali delle Asle dovrebbero autodenunciarsi sì ma per inadempienza. La denuncia arriva dalle opposizioni in consiglio regionale che tornano a parlare dei ritardi nell'attuazione del piano di rientro, della mancanza di un nuovo modello organizzativo funzionale, delle liste d'attesa infinite e degli ospedali che chiudono dei 220 milioni di euro di mobilità passiva. Gli esempi non mancano se si pensa, dichiarano, che l'oncologico di Bari ha 7 dirigenze amministrative per soli 85 posti letto e 15 milioni di deficit nel 2010. E allora la soluzione per le opposizioni è semplice, anche se ancora senza numeri certi. Applicare la legge 12 del 2010 che consente di coprire i posti vacanti con la mobilità o in alternativa ammette, previa autorizzazione della giunta regionale, nuove assunzioni. Dunque i direttori generali rideterminino le piante organiche e coprano i posti liberi con la mobilità o con le deroghe. Sentiamo il coordinatore delle opposizioni, Rocco Palese. Noi sommessamente sollecitiamoci il governo regionale e i direttori generali a procedere a fare questi adempimenti perché in automatico verranno tutte per legge stessa le deroghe che debbono essere fatte. L'impegno da parte nostra, c'è un impegno costruttivo nel ricinto delle leggi nazionali e regionali.